Benvenuti al Tg regionale per sordi. Personale della Guardia di Finanza nel pomeriggio di ieri ha acquisito atti presso la sede della Società di Trasporti Autolinee Toscane SPA a Scandicci in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, i documenti richiesti dalla Polizia Giudiziaria riguarderebbero il bando di gara regionale per il trasporto pubblico locale che la stessa società si è aggiudicata e su cui la Procura ha aperto un fascicolo. All'arrivo delle fiamme gialle negli uffici erano presenti cinque dirigenti più altro personale dipendente. Un incendio divampato durante la notte scorsa intorno a Luna ha interessato la tettoia di una pertinenza esterna di una villetta bifamiliare in località La Casina a Campoelba in provincia di Livorno distruggendo un'auto, due scooter e delle biciclette elettriche. Il pronto intervento della squadra dei vigili del fuoco di Portoferraio, arrivata sul posto, ha evitato che l'incendio si propagasse nell'edificio e che le quattro bombole di GPL che alimentano le utenze degli appartementi e che sono state interessate dalle fiamme potessero rischiare di esplodere. Hanno protestato stamani davanti alla regione in piazza Duomo a Firenze per chiedere più borse di specializzazione e contratti di formazione della medicina generale. Alcune decine di giovani medici si sono presentati con camice e mascherine per evidenziare uno dei problemi principali del sistema sanitario che l'emergenza Covid ha reso anche più evidente. Il percorso di formazione dei medici ha un imbuto dopo la laurea. Mancano infatti corsi per formare tutti gli specialisti e i medici di famiglia che sarebbero necessari. Chiude al traffico il viale dei Tigli nella pineta di Levante a Viareggio quella che collega Viareggio con Torre del Lago. Visto l'esito positivo della sperimentazione dello stop alle auto nel fine settimana il Comune ha deciso di prorogare il provvedimento fino a fine settembre. Si conclude questo fine settimana l'esperienza del reparto di cure intermedie allestito nell'area dell'ex ospedale Ceppo di Pistoia per ospitare i pazienti con coronavirus. Lo rende noto la Toscana Centro, precisando che il progressivo decremento dei casi e la conseguente minor necessità di ospedalizzazione ha ridotto i ricoveri nelle cure intermedie aperte a tempo di record alla fine del mese di marzo per supportare le dimissioni ospedaliere e per favorire il recupero dei pazienti dimessi in fase post-acuta che avevano contratto l'infezione. I sindaci delle città metropolitane hanno avuto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte una riunione molto franca, a tratti accesa. Credo che il presidente Conte abbia capito che i sindaci italiani non fanno una semplice lamentela, una dimostrazione di categoria. Se parlano i sindaci, parlano i cittadini. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, riguardo alla video riunione del Lanci e la vice sindaca di Firenze, Cristina Giacchi. Prosegue il percorso avviato dal Comune di Siena per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità che si possono verificare sul territorio. In queste ultime settimane, spiega il Comune, sono state installate 15 nuove telecamere in varie zone della città per accrescere il sistema di videosorveglianza. Un investimento importante volto alla prevenzione dei reati per una Siena più sicura. Due telecamere sono state installate in via Custoza, tre nel tunnel del parcheggio San Marco, otto in Fortezza e due a Ravacciano. Vergogna per quanto accaduto a Campo di Marte, una svastica davanti alla casa di una famiglia ebraica. Ma stiamo scherzando? Lasciamo stare simboli e ferite del passato? No, intanto, la cancelliamo e mandiamo un grande abbraccio alla famiglia offesa. Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in riferimento alla svastica comparsa mercoledì scorso in una via di Campo di Marte sul selciato di fronte all'abitazione della famiglia. Nella riunione che si è tenuta ieri in videoconferenza con gli assessori alla scuola dei comuni più grandi si è fatto il punto sulle questioni più urgenti riguardanti l'organizzazione dei centri estivi per i quali si attende l'erogazione delle risorse pari a 150 milioni previste nel DL rilancio e la ripresa della scuola a settembre che ha bisogno di indicazioni certe sulla sicurezza e di misure anche finanziarie per sostenere gli interventi che i comuni dovranno garantire. È emerso uno scenario complesso sia per quanto riguarda l'organizzazione delle attività nei prossimi mesi estivi sia per la successiva ripresa della scuola in queste settimane e mesi e a settembre. È quanto ha sottolineato il presidente della Commissione Istruzione, Politica, Educativa e Delizia Scolastica Cristina Giacchi che è anche vice sindaco di Firenze. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Sereno o poco nuvoloso con addensamenti in mattinata sull'Appennino. Locale instabilità nelle ore pomeridiane associata a isolati brevi, rovesci, temporaleschi più probabili su Garfagnana, Apuane e Appennino settentrionale. Venti deboli dal nord-est con locali rinforzi. Temporanea rotazione a maestrale sulla costa nel pomeriggio. Mari poco mossi, mossi nel pomeriggio sera sul litorale a sud di Cecina. Temperature in calo le minime, in aumento le massime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. Grazie.